Mattia se ti dico c'era una volta un piatto della tradizione cosa mi prepari? Ammazza cosa sei andata a scavare una cosa che non potrò mai dimenticare è l'agnello in umido quindi a base di pomodoro che faceva la mia nonna un bel soffritto di sedano carota e cipolla e poi le costine di agnello con altre parti naturalmente dell'animale messe in cottura e lasciate cuocere per ore ed ore la domenica mattina l'agnello in casa di mia nonna era d'obbligo oppure se proprio voleva esagerare quando era veramente sulla cresta dell'onda mi preparava la trippa in umido alla ligure che è decisamente il mio piatto preferito quindi una base di pomodoro un bel soffritto e fagiolane quindi fagioli grandi quegli spagnoli conditi con dei pinoli e naturalmente la trippa che non poteva mancare tutte le parti della trippa mi raccomando